Buongiorno a tutti, oggetto servizio di trasporto pubblico estivo luglio settembre 2015, Alcamo, Alcamo Marina e viceversa. Il dirigente del settore premesso che con deliberazione consigliare 124 del 13 ottobre 2011 è stato approvato il regolamento per lo svolgimento da parte dei privati del trasporto passeggeri in applicazione all'articolo 12 del 13, che fra l'altro disciplina il servizio di trasporto pubblico concorrenziale di linea. Per il trasporto pubblico concorrenziale di linea si intende l'esercizio del trasporto di persone comunque remunerato, effettuato su corso per una destinazione predeterminata su itinerari determinati preventivamente in alternativa o in concorso con analogo servizio pubblico o vestituito con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone. Avvisa che possono inoltrare la scia, cioè segnalazione certificata di inizio di attività al Comune di Alcamo, settore servizio al cittadino e sviluppo economico, i possessori dei requisiti di cui è l'articolo 4 del sollecitato regolamento che così recita. L'esercizio dell'attività di cui è il paziente regolamento non è soggetto a licenza. L'esercizio dell'attività di cui è il paziente regolamento è a tempo illimitato, salvo provvedimenti di sospensione, o il verificarsi di ipotesi di decenza relativamente alla iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti previsto dall'articolo 6, ecc. L'iscrizione nel ruolo provinciale di cui è il comma precedente, costituisce il titolo necessario per l'esercizio dell'attività del presente regolamento, in particolare debbono essere conservati sul veicolo e sono esibiti su richiesta dei soggetti dei preposti all'attività di vigilanza e controllo, la copia della certificazione di iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti, nonché copia della scia, quello avevamo detto, segnalazione certificato di inizio di attività, quindi scia si chiama, su strada di cui all'articolo 9 con legge qualora vengano adibiti autoveicoli destinati a norme all'articolo 82, eccetera, eccetera, a trasportare più di 9 persone autista compreso. Rende noto che per la sola linea 6, Alcamo, Alcamo Marina e viceversa, nel caso di manifestazione di interesse di più imprese per la suddetta linea numero 6, si procederà alla turnazione settimanale del periodo estivo luglio-settembre. Il turno sarà iniziato dal soggetto che presenterà la scia per prima, cioè la scia, abbiamo detto, segnalazione certificata di inizio di attività, quindi chi arriva prima comincia il turno. A tale fine viene fissato come termine ultimo per la presentazione della predetta scia la data del 22 luglio 2015, ore 10. Farà fede il timbro postale e il protocollo generale. Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento, signora Mirta Rosanna, e telefonare oppure telefonare al numero 0924 59 0224 oppure 295, o presentarsi presso l'ufficio, sito in via Pia, Opera, Pastore, numero 63 A. Quindi questo per dire che mentre prima era stato appaltato il servizio di trasporto, era stato aggiudicato a una persona, e addirittura pure per andare al cimitero, e aveva degli orari ben precisi, facendo capo sempre alla vecchia stazione in Piazza della Repubblica. Ora praticamente tutti possono partecipare, però naturalmente a pagamento, si vede c'è carestia e quindi non si può assolutamente dare. Va bene. E allora vi dico l'ultima notizia, l'ultima notizia è l'Araba Fenice, quindi artisti per Alcamo, l'Araba Fenice, presso il Monte Bonifato, diciamo ci sono delle attività che vengono fatte, ecco, quindi qui riserva orientata, non è Bosco di Alcamo, il telefono si può telefonare, il cellulare e quindi ci sono tutte queste attività. Le conversazioni, 15, 17, 21, 25, 28 di giugno, 2, 7, 9, 13, 22, 25, 27, 28 di luglio, primo, 4, 6 di agosto, 16 agosto, 23 agosto, 30 agosto e poi 6 settembre, 13 settembre, 27 settembre, 27 settembre e poi ottobre 3 e 6 e poi il bosco eccetera eccetera. Quindi ci sono, chi volesse, poi pubblicheremo naturalmente questo calendario, dove ci sono nel mese di luglio quello che c'è, nel mese di agosto quello che c'è e anche nel mese di settembre, poi ci sono queste mostre, poi ci sono i film, per esempio il 16 di luglio, storie pazzesche, il 23 di luglio, non si legge bene, il 30 di luglio eccetera eccetera. Bene, diciamo chi vuole può vedere, ci dovrebbero essere anche dei manifesti, delle locandine per questa, l'araba fenice. Ci sono delle cose interessanti, quindi chi volesse può benissimo partecipare. Bene, io che vi devo dire, vorrei leggervi qualche altra cosa, ma penso di non avere tempo per farlo, quindi vi ringrazio come sempre della vostra cortesa attenzione e ci risentiremo la prossima volta. Però vi devo dire che voglio fare un approfondimento a proposito del GAL, per sviscerare in tutte le sue forme questo GAL, per far capire alla gente che cos'è effettivamente, quanti soldi si sono spesi, se sono stati spesi bene, se sono stati ritirati, se ci sono stati dei controlli, non lo so. Però facendo la somma di tutti questi atti di concessione viene fuori una cifra enorme. Io parlo solamente di Alcamo, non vi dico degli altri perché ci sono pure gli altri comuni, Balestrati, Cinesi, ci sono tutti i comuni della provincia di Trapani e quelli della provincia di Palermo. E quindi figuratevi mare di soldi che vengono spesi. Se sono spesi bene, a me fa piacere. Se no, chiaramente non fa piacere perché questi soldi non sono né del GAL, né di nessun altro, ma sono soldi nostri che paghiamo regolarmente. Bene, vi ringrazio come vi ho detto prima e ci risentiremo la prossima volta. Grazie a tutti.